E' lunedì 3 di aprile, buongiorno come ogni giorno dagli studi di Dentro la Notizia. E' un inizio di settimana segnato dalla cronaca nera come vedremo sui giornali con l'omicidio tentato del figlio, ma il suicidio purtroppo riuscito a Montecatini e Mal di Cecina di questo padre che riapre una ferita sociale, quella delle separazioni, con le difficoltà da parte di uno dei due genitori ovviamente di poter vedere il proprio figlio, il tutto ovviamente in un contesto disperato come quello in cui si è mosso questo cittadino residente in provincia di Firenze che è andato a Napoli a prendere il figlio, ha tentato di compiere il classico omicidio e suicidio ma ha riuscito soltanto a ammazzare se stesso perché il bambino è riuscito a uscire dall'auto saturata dal gas. E poi c'è la svolta nell'omicidio di Prato, come vedremo, quello del portiere di notte di cui avevamo parlato sul finire della scorsa settimana ma poi dovremo parlare anche di politica con le evoluzioni in casa PD, dei congressi nei circoli ci sono i primi risultati, oggi si farà la conta anche in Toscana stravince in ogni caso Matteo Renzi come era prevedibile dovremo parlare anche di economia, i dazzi di Trump, la Brexit, i reali d'Inghilterra o meglio le eredi al trono, Carlo e Camilla, che trascorrono ancora qualche giorno oggi per la precisione stanno all'ultimo, in riva all'Arno ieri soltanto la duchessa di Cornovaglia si è fatta vedere in centro in una serie di appuntamenti parliamo di tutto questo assieme ai nostri ospiti ma di molto altro come vedrete tra poco sui giornali e non solo buongiorno intanto a chi ci accompagna nell'analisi della giornata buongiorno a Francesco Macri, presidente di Estra ben trovato presidente, grazie per essere nuovamente con noi buongiorno al professor Marco Tarchi, docente di scienze politiche Università di Firenze, buongiorno professore, grazie per essere tornato con noi buongiorno anche al direttore dell'ANSA Toscana Stefano Fabri, buongiorno direttore buongiorno a tutti andiamo a vedere i giornali adesso in prima pagina cosa ci propongono la nazione apre con il fatto di Budrio nel bolognese senza difesa caccia il killer del barista ucciso nel bolognese durante una rapina l'inchiesta, pene lievi, rimborsi, beffa, le famiglie la vedova di un negoziante ucciso nel 2014 dice meglio fosse stato armato e avesse sparato le altre notizie il papa è stato in Emilia ma sul lato delle popolazioni colpite dal terremoto cinque anni fa a Carpi tutti i centri storici devono essere ricostruiti rimuovete le macerie della vita ha detto il pontefice e poi la politica come abbiamo detto Orlando al 25% Renzi al 68% anche Emiliano va alle primarie perché doveva superare la soglia del 5% pare ce l'abbia fatta il governatore della Puglia la notizia di cronaca diciamo dalla Toscana del giorno è questa rapisce il figlio moriremo insieme padre suicida il bimbo si salva questo è quanto arriva dalla cronaca toscana tra poco lo vedremo meglio derby della noia Babacar decisivo Fiorentina batte il Bologna 1-0 sarà il finire come sempre o come ogni lunedì mattina della nostra rassegna stampa la parentesi calcistica Bebite e Pisti imbrattano Palazzo Vecchio è successo a Firenze Palazzo Vecchio tra l'altro che oggi si prepara ad accogliere la cena di gala per le chiave della città proprio a Carlo il principe di Galles andiamo a vedere il Tirreno il quotidiano di Livorno in edizione Prato Pistoia intanto da Montecatini e Val di Cecina la notizia del dramma voleva morire col figlio separato e disperato si uccide con il gas il bimbo riesce a fuggire lo chiamava il mio cucciolo e voleva morire insieme a lui ha saturato di gas l'auto dove il figlio dormiva e ha preso dei farmaci per stordirsi l'uomo residente in Valdelsa 43 anni separato dalla moglie a cui era stato affidato il ragazzo è morto suicida mentre il bambino di 8 anni è riuscito a fuggire dall'auto svegliato dal puzzo di gas e il gesto estremo di un padre disperato ha scritto nelle 4 pagine lasciate nella macchina parcheggiata a Montecatini e Val di Cecina il bambino era stato prelevato dalla madre a Napoli venite il mio papà non respira la richiesta di aiuto ha suonato al campanello di una casa il mio papà è nell'auto e non respira il piccolo è uscito dall'auto e ha cercato aiuto vedendo il padre esamine nella vettura omicidio a Prato c'è un fermato il marocchino stava per lasciare l'Italia è stato fermato dalla polizia indiziato di questo terribile omicidio del portiere di notte di giovedì sera davanti al tribunale di Prato un cittadino magrebino che stava per prendere un volo dall'aeroporto Marconi di Bologna Renzi vince i congressi Orlando accusa Emiliano sopra il 5% Renzi vicino al 70% Orlando tra il 25 e il 30% Emiliano appena sopra il 5% questi risultati ufficiosi dei congressi PD Orlando dice pochi i votanti sarebbero circa la metà degli iscritti ma ovviamente dovremo attendere l'ufficialità un'Europa contro le isterie Alessandro Volpi commenta invece le ultime vicende sul fronte europeo a centropagina nella cronaca di Pistoia e di Prato c'è spazio allo sport sì ma il basket perché come sapete la Flex continua la sua marcia verso i playoff sbanca anche Torino all'overtime 95 a 91 cioè ai tempi supplementari sapete che il pareggio non è consentito nel basket e dunque si è andata avanti fino a che una delle due non l'ha spuntata e lo ha fatto la squadra arancione dunque questo è il terreno che mettiamo da parte almeno per ora andiamo a vedere la Repubblica Firenze omicidio a Prato pronto alla fuga il giovane accusato il marocchino di 28 anni una vita da sbandato fermato mentre Bologna stava per imbarcarsi su un aereo il comitato cancella dal muro la scritta razzista in via Palazzuolo Buca Nerone la scritta apparsa ieri mattina in via Palazzuolo una scritta a carattere cubitali al di sopra dell'insegna per indicare un bar frequentato da africani da somali soprattutto via Palazzuolo è zona problematica del centro di Firenze si uccide in auto con il gas il figlio di 9 anni si sveglia ed è salvo per fortuna il ragazzino Simone Giorni fa nome e cognome in questo caso Repubblica di 43 anni di Castelfiorentino ha prelevato il figlio all'uscita di scuola e ha avvertito la madre che l'avrebbe riportato in serata è stato invece ritrovato ieri mattina riverso sul sedile posteriore di un Apollo a Montecatini Val di Cecina nel Pisano morto per asfissia e a dare l'allarme è stato proprio il figlio riuscito chissà come a scappare dalla camera a gas dell'auto il bambino ha aperto la portiera mentre suo padre era già incosciente a fermare questo pezzo Massimo Vanni la Fiorentina che si prende sempre molto spazio nelle pagine del lunedì della nostra segna stampa tra noi a Pioggia e Scherzetti di Sosa rimane una speranza per il sesto posto terza vittoria di fila per la squadra viola Camilla volontariato e shopping la visita dei reali inglesi il volontariato l'arte lo shopping una domenica intensa per Camilla iniziata col progetto Arcobaleno inoltranno e poi proseguita agli uffizi vediamo anche la cronaca della Nazione di Firenze che concentra la sua attenzione proprio su questo eccola qua la duchessa di Cornovaglia reality show è il gioco di parole con real ovviamente riferendosi alle loro alla diciamo la loro presunta eredità ovviamente effettiva al trono d'Inghilterra selfie strette di mano e applausi il real è proprio quello bagno di foglie in centro e shopping per i nipotini Camilla visita gli uffizi e il vasariano e stasera la cena di gala a Palazzo Vecchio scritte sui muri e insulti agli agenti bevi tempisti a Palazzo Vecchio anche qui vedete viene ripresa la notizia abbiamo visto in prima pagina sul QN droga ai minori blitz nel parco due arresti dunque abbiamo visto anche la cronaca Firenze chiudiamo col Corriere Fiorentino duplice formato come ogni nuedì quello imprese della Toscana con lo avete riconosciuto Donald Trump a fianco all'ex presidente Obama tutta colpa di Trump punto interrogativo le indiscrezioni sui tazzi USA hanno scatenato la rivolta del Made in Italy ma le misure anti UE anti Unione Europea sono solo l'ultimo passo della corsa iniziata con la crisi del 2008 negli ultimi sei anni sono stati introdotti 4432 provvedimenti protezionistici anche in settori chiavi per le nostre esportazioni ecco quali sono i più colpiti effetto G7 rischi e occasioni scrive Carlo Nicotra nell'editoriale Firenze e Lucca a Firenze abbiamo archiviato il G7 della cultura Lucca sta per arrivare quello dei ministri degli esteri 10 e 11 aprile ci segniamo la data poi ne riparleremo Davide Allegranti invece firma il suo sguardi dell'Uedì la psicopolizia dei 5 Stelle i 5 Stelle ormai si occupano intensamente anche di ciò che succede in giro per il mondo mica si accontentano con tono sarcastico quello lo contraddistingue Davide Allegranti scrive questo pezzo mica si accontentano di dire la propria sui vitalizi sabato scorso il deputato Maglio Di Stefano capogruppo in commissione esteri era a Firenze per il tour che sta facendo in tutta Italia gli Stati Uniti di Trump e il futuro delle relazioni atlantiche naturalmente i grillini non si fermano all'America esternano anche sull'Unione Europea da poco hanno pubblicato un libro sull'Europa e poi sono 15 paginette scritte in italiano in Italia hanno stentato nonostante la misura ridotta della pubblicazione la quantità di sparate contenute è notevole dal referendum sull'Euro all'introduzione di una moneta fiscale parallela chiudiamo con il Corriere Fiorentino Sport la seconda parte come detto del Corriere Fiorentino di stamani testata per l'Europa è la testata di Babacar eccolo qua il giocatore senegalese dell'attaccante della Fiorentina che ha consentito di battere nel derby dell'Appellino nel Bologna 1-0 il gol di Babacar regala la terza vittoria consecutiva tiene aperte le speranze di rincorsa al sesto posto l'Atalanta va ma il Milan frena e stasera c'è l'Inter l'analisi di Sandro Picchi un paradosso e tre indizi secondo l'editorialista sportivo del Corriere Fiorentino il numero buono è tre tre vittorie per uno a zero tre punti di distacco dal Milan e volendo si possono aggiungere anche le tre consecutive formazioni sorprendenti di Paolo Sousa dunque questi sono i titoli principali della nostra segna stampa riusciamo a vedere la pagina d'apertura dell'online dell'ANSA che ci riassume le notizie più importanti della giornata che ci siamo messi alle spalle ma anche quella ovviamente che stiamo per iniziare in un certo qual modo questa è la principale ovviamente tenta di uccidere il figlio e si uccide il bambino salvo è la notizia di cronaca che caratterizza come avete visto anche le prime pagine se riusciamo a tornare indietro e a vedere della sua interezza ovviamente l'home page dell'ANSA toscana vedrete come viene affrontato anche l'omicidio di Prato che è un'altra di quelle notizie di cronaca nera che caratterizzano ovviamente la giornata di ieri e poi la notizia dei reali d'Inghilterra degli eredi al trono per essere più precisi come abbiamo detto che hanno caratterizzato la domenica a Firenze intanto vi faccio vedere il terreno follia dei padri moriamo insieme ma il figlio si salva l'uomo va da Firenze a Napoli per sottrarre il bimbo all'ex e poi organizza l'omicidio suicidio con il gas in Toscana non ha superato l'abbandono Tiziana Franchi dell'associazione Padri Separati dice dividersi da un figlio è un lutto questa è la mappa ricostruita dal terreno che fa vedere insomma qual è stato il viaggio per andare a recuperare il figlio e poi ritornare in Toscana da Santa Maria Novella alla provincia di Napoli il luogo di residenza della madre e poi ritorno in Valdessa che è il luogo di residenza del padre la macchina fino a Montecatini Val di Cecina nel Volterrano direzione costa verso la provincia di Livorno dunque questa è la notizia dicevamo di cronaca che apre il terreno e ritorna il problema chiamiamolo così dei padri separati se vogliamo ovviamente al di là di questo caso è una di quelle vicende che purtroppo di tanto in tanto ritornano per le difficoltà in cui versano questa parte diciamo di chi deve subire in qualche modo la separazione direttore più che tornano è un come dire ormai una presenza abbastanza costante nelle cronache ora in questo caso c'è stato un esito assolutamente terribile insomma con un suicidio che poteva anche finire addirittura peggio insomma con la morte anche del bambino in realtà devo dire che siamo più abituati noi a occuparci abituati forse è una parola grossa ma ci stiamo abituando a occuparci di questo aspetto dei padri separati anche per quanto riguarda un altro fenomeno apparentemente meno drammatico ma è che è quello invece dell'impoverimento dei genitori in particolar modo dei padri che spesso vengono considerati giustamente per alcuni aspetti la parte più forte in una separazione e ai quali viene fatto spesso l'onere anche di diciamo spesso più che giustamente di un'assistenza dell'altra parte della famiglia che non vive più con lui e talvolta però forse con dei parametri che riducono queste persone in estrema difficoltà eh sì questo insomma è un dato sempre più presente basta vedere i dati della Caritas di coloro che si servono adesso di questo tipo di servizi e frequentano le loro menze ci facevano notare che c'è diciamo così un incrocio sociologico abbastanza stretto su questo genere insomma di persone ripeto si tratta di un dato meno drammatico di quello di cui stiamo parlando adesso sui giornali ma forse più costante e più presente eh sì questo poi è un caso a parte come abbiamo detto probabilmente non c'entrano poi ovviamente no gli aspetti economici non credo siano proprio aspetti di una disperazione personale siamo riusciti a capire è proprio come dire una ehm ciò che questa persona viveva come un'ingiustizia e che ha cercato alla quale ha cercato riporre rimedio nel nel modo peggiore faccio vedere anche nel fascicolo regionale all'interno della nazione il QN questa notizia viene ripresa avete già intravisto nella foto che ci ha proposto la regia la bombola di gas eccola qua con la quale ha tentato insomma questo omicidio suicido suicidio lasciando un biglietto con suo scritto che avrebbe in qualche modo fatto un gesto disperato da padre per che l'avrebbe portato a questo mio figlio e figlio mio moriremo insieme il virgolettato lui si uccide il bimbo riesce a fuggire a Pisa lo va a prendere a scuola poi apre una bombola di gas in auto voglio solo vederlo è il messaggio che il padre ha postato sul suo profilo Facebook il 28 febbraio scorso il bambino ha 8 anni l'uomo non accettava che la ex moglie avesse l'affido esclusivo se vediamo tanta riservatezza attorno a questo fatto anche il fatto la delicatezza di magari non dire dove risiedeva l'uomo e anche perché si tutela in questo caso il minore si cerca in qualche modo di tutelare l'identità non ho scorso i giornali se non con te adesso mi auguro insomma che questo aspetto sia stato rispettato perché insomma ci sono delle norme deontologiche molto stringenti a questo proposito per evitare diciamo così che un minore tanto più se un minore che poi avrà di fronte una vita gli auguro la più lunga possibile non venga inseguito da diciamo dalla ricorrenza di questo genere di notizie di cui è stato purtroppo protagonista involontario allora questa notizia di nera del giorno la archiviamo per ora tra poco vedremo ovviamente anche l'altra quella su Prato vedremo le novità prima però vorrei vedere come è andato il congresso del PD nei circoli e su questo vorrei chiamare in causa il professor Tarchi perché insomma è uno di quei riti che fa tornare in mente diciamo i partiti tradizionali secondo la nazione Renzi stende Orlando al primo round vince in tutte le regioni giù i votanti sfida nei circoli PD l'ex premier intorno al 68% l'affluenza è al 58% le percentuali darebbero Matteo Renzi al 68,2 questo è un primo dato che però tende l'ufficialità ancora poi c'è Orlando al 25% e Emiliano al 6,4 Emiliano è importante questo particolare ha superato il 5% che era la soglia per la quale poteva essere diciamo così poteva in qualche modo entrare nella corsa per il 30 di aprile alla segreteria nazionale perché finora si è votato nei circoli quindi per i delegati provinciali è un rito da vecchio partito da partito tradizionale forse è l'unico che rimane professor Tarchi possiamo dire così? può essere considerato come tale anche se il modo in cui si è svolto finora fa pensare invece che non siamo certamente ai tempi della prima repubblica nel senso che non solo si è svalutata in sé la parte del congresso nel caso del PD ma anche in altri casi che riguarda gli iscritti che un tempo erano assolutamente i sovrani della situazione sì potevano essere e lo erano fortemente condizionati talvolta anche manipolati da correnti interne da gruppi di potere dalle segreterie e così via però avevano uno spazio di manifestazione del loro punto di vista che finiva per diventare decisivo attualmente le cose cambiano sappiamo che questo è soltanto un rito per usare giustamente le sue parole preparatorio a un altro rito che è quello dell'incontro con il pubblico più vasto attraverso le primarie ora mi pare sia opportuno sottolineare la grande diversità di clima psicologico che c'è fra questo svolgimento della fase pre primaria e poi probabilmente anche quella del 30 aprile rispetto a quelle che l'hanno preceduta nelle occasioni precedenti da quando si è istituito questo nuovo statuto questo nuovo regolamento non solo ci sono stati tempi ristretti ma nonostante la grande drammaticità di una situazione che ha portato a una scissione e una scissione di personaggi che hanno avuto come tutti sappiamo un ruolo estremamente importante nella storia del partito democratico ci siamo trovati di fronte a una sorta di forte compressione della discussione politica non oso più dire nemmeno ideologica perché ormai questa dimensione sembra essere scomparsa in buona parte dei partiti contemporanei e quindi si è giunti in un clima nel quale senz'altro vale ancora e molto fortemente questi dati lo dicono la presa personale di Renzi ma dietro a tutto questo c'è una sorta di costruzione di coalizioni interne di cui poco si parla e che evidentemente hanno di per sé occupato il retroscena ma non la scena sappiamo per esempio che dietro Renzi c'è un problema di rapporti tra alcuni maggioranti del partito si dice che il risultato dei circoli ma soprattutto quello delle primarie sarà molto importante per capire il ruolo di Franceschini e non soltanto di lui la propulsione di Martina a fianco di Renzi significa ancora altre cose bene tutto questo però ha scosso relativamente il mondo interno del PD 58% di partecipanti al voto in questa fase può voler dire un sacco di cose bisognerebbe fare un sondaggio interno per poterlo capire probabilmente qualcuno ce l'ha anche pensato ma dati ovviamente ancora non ce ne sono si può dire si può avanzare almeno un'ipotesi ovvero sia che ci sia una parte degli iscritti che è estremamente perplessa che di fronte alla vicenda dell'ascissione di fronte all'accelerazione di questo congresso di fronte allo scarsissimo dibattito di idee che c'è stato non sa che cosa fare aspetta sta alla finestra vuole vedere come vanno le cose non vuole andarsene perché c'è sempre la logica bersaniana della ditta che funziona anche appunto sui non bersaniani o su quelli che non lo sono abbastanza ad essersene andati però da un'altra parte non c'è nemmeno quel effetto di trascinamento che una situazione di questo genere in altri momenti avrebbe comportato di fronte una scissione così importante ci si sarebbe potuto immaginare anni fa che gli iscritti sarebbero andati diciamo alle urne interne in stragrande maggioranza non poco più del 50% quindi questo secondo me dà qualche fondamento non so dire ovviamente se poi questo sia davvero lo sbocco che la situazione avrà è troppo presto per poterlo dire però dà qualche fondamento alle tesi per esempio di Orlando secondo cui il rischio è quello che dopo un congresso di questo tipo ci sia un risultato elettorale piuttosto scarso alle amministrative perché questo pubblico di perplessi è soprattutto quello che rappresenta perché dietro questi iscritti ci sono dei simpatizzanti che possono avere e dei votanti che possono avere lo stesso tipo di reazione quindi che forse cercano di capire come e dove andrà questo partito post primarie e rimangono alla finestra se rimanessero alla finestra anche un'occasione delle amministrative può darsi che ciò non si verifichi è ovvio questo sarebbe una gatta da appelare enorme un grosso rischio per Renzi e quindi il suo successo interno rischierebbe poi invece di metterlo prima in ostaggio delle altre componenti della sua coalizione vincente all'interno del partito e poi in grande difficoltà naturalmente anche nella prospettiva delle elezioni politiche che ci dovranno pure essere diversi spunti insomma dal suo intervento molto interessante tra l'altro come sempre li riprendo andando a vedere proprio questa grafica della nazione che ci fa vedere intanto i precedenti sicuramente qualcuno di voi ricorderà la corsa del 2013 vinse Matteo Renzi 45 e 3 Gianni Cooper era lo sfidante più accreditato si fermò al 39 e 5 all'epoca c'era anche Bippo Civati che prese il 9 e 4 e Gianni Pirtella oggi ai vertici del gruppo in Parlamento Europeo dei socialisti democratici che si fermò al 5 e 8 prima ancora ci fu la sfida tra il segretario uscente Dario Franceschini che come ricorderete dopo il dimissionario Veltroni prese le redini del partito e andò al 37% oggi il professore ci ricordava il ruolo chiave di Franceschini nella partita Bialuigi Bersani al 55 e 1 da lì incominciò insomma l'ascesa di Bersani che più portò alle elezioni che sappiamo come sono andate le ultime che si sono celebrate e Ignazio Marino 7 e 9 era il terzo incomodo e si piazzò con un 7 e 9 dunque Emiliano in questo caso sarebbe il condizionale d'obbligo tra il risultato di Marino e quello di Gianni Pirtella le regioni dove si è votato di più tra in percentuale ovviamente dei consensi di Renzi dati parziali non definitivi precisa di Dascalia la regione la Toscana l'Umbria le Marche vedete il cuore rosso insieme all'Emilia sarebbe in un certo qual modo del Partito Democratico l'Emilia non rientra in questa categoria dicevamo Toscana Umbria e Marche Lombardia e Veneto dove il segretario uscente è andato tra il 65 e il 70% ma i votanti che nel 2009 le abbiamo citate prima le elezioni precedenti erano 466 573 sono arrivate nel 2013 a 296 mila nel 2017 a 240 mila circa perché i dati non sono ancora definitivi almeno per ora gli iscritti del PD anche questi sono calati drasticamente dalla corsa del 2009 quella per intenderci tra Bersani e Franceschini al 2013 erano già più di mezzo milione poco più e ora sono scesi sotto il mezzo milione 435 mila quindi gli iscritti sono 435 mila e a votare di questi 435 mila sono stati 240 mila quindi come diceva il professor Tarchi poco più del 50% bicchiere diciamo mezzo pieno secondo lei direttore o mezzo voto per Renzi che trionfa sì ma con forse qualche votante in meno non qualche l'analisi che faceva il professore è convincente anche per un altro profilo mentre ascoltavo questa raffica di dati che tu stavi dando pensavo anche alle quote diciamo a cui siamo abituati recentemente dei votanti alle elezioni amministrative o politiche però non sono diciamo così delle cifre che possono essere messe a confronto nel senso che è normale anche se triste che ci sia sempre meno gente che va a votare ma qui siamo in presenza di iscritti a un partito che dovrebbero essere molto più motivati ad andarci quindi se penso che in Toscana che è una regione che tra le più alte come tradizioni c'è quella del voto insomma di una forte adesione al voto alle ultime regionali ha votato il 49% pensare che dentro un partito seppure in media nazionale non ho il dato toscano sia soltanto il 58% che va a votare ma siamo ripeto tra gli iscritti a un partito sicuramente è un dato che fa molto riflettere d'altra parte è anche vero che questa guerra delle cifre soltanto percentuali va letta con un po' d'attenzione ad esempio recentemente uno studioso di sistemi elettorali della regione toscana Floridia faceva un'analisi dicendo sì sì è vero che c'è una tenuta sostanziale nell'adesione al voto dal punto di vista percentuale alle primarie rispetto alle volte precedenti però faceva notare che c'è stata una flessione di iscritti al partito democratico in toscana che si aggira sulle 18.000 persone che insomma sono una cosa che fanno la differenza per venire per venire per venire poi molto rapidamente a ciò che invece accadrà il 30 aprile cioè alle primarie quello veramente forse sarà la cosa più interessante anche come diceva il professore perché ci sarà l'incontro diciamo così col pubblico che è sempre stato un po' l'elemento di novità degli ultimi anni e che non ha poi convinto del tutto insomma no perché non si capisce perché alla fine il voto di uno che passa paga due euro e sottoscrive un impegno possa valere quanto in qualche modo il voto di uno che è iscritto a un partito fa politica si dà da fare eccetera eccetera ma sarà interessante proprio perché potrebbe non voglio dire ribaltare ribaltare il risultato che c'è all'interno del PD però modificarlo profondamente io voglio ricordare che non è la prima volta che alle primarie del partito democratico indipendentemente dalla firma che viene fatta in calce a un impegno non impegnativo passatemi il bisticcio e al versamento di due euro insomma ormai è diverso tempo e ci sono andate è notorio lo sanno lo ammettono tutti anche persone che poi non hanno per niente votato per il partito democratico o non avevano votato precedentemente è accaduto nella città come Firenze che ha tenuto un po' a battesimo le primarie al momento dell'ingresso sulla scena politica di Renzi potrebbe succedere anche questa volta io sono molto curioso ad esempio per capire che cosa faranno coloro che non sono più iscritti al partito democratico e si rivedono e si ritrovano nel progetto politico di MDP che per ora viene quotato molto poco mi pare dal punto di vista della consistenza elettorale ma sono molto curioso di sapere cosa faranno in occasione delle primarie ci andranno voteranno per Orlando e questo sarà un dato assolutamente interessante da vedere di sicuro e concludo c'è un elemento importante oggi Richetti mi sembra su Repubblica da un'interpretazione del perché del successo di Renzi dicendo che sta attraendo su di sé coloro che non sopportano il fuoco amico dentro il partito democratico in realtà ho la sensazione che se si trattasse solo di questo sarebbe molto preoccupante perché significherebbe diciamo così metti insieme i meno nemici e non i protagonisti di una proposta politica che invece fino a qualche mese fa sembrava essere assolutamente maggioritaria dentro il PD il Corriere della Sera mette in fila le città principali d'Italia e come vedete Firenze è quella dove Renzi ovviamente raggiunge il maggior numero di consenso altro che bulgaro 82 e 4% ma era prevedibile insomma visto che viene proprio dal capologo di legione toscano c'è anche un altro capologo che non tradisce mai il renzismo ed è Arezzo siccome Francesco Magri viene da Arezzo la sua attività politica prima di diventare presidente estra viene proprio da lì anche se sulla parte opposta ovviamente lo schieramento come nota la sua carriera politica diciamo lì c'è stato l'apice del renzismo probabilmente prendo il dato d'Arezzo per prendere un dato in Toscana che è quello che supera il 70% dei consensi dove tra l'altro c'è un personaggio politico forte che sarebbe contro Renzi sarebbe l'assessore Ceccarelli ex presidente della provincia oggi insomma in un assessorato di peso della giunta Rossi che invece ha scelto Orlando e dove vince e stravince ancora una volta Renzi benché il candidato renziano alle scorse elezioni amministrative abbia perso anche in un certo qual modo clamorosamente la corsa al comune quindi come la analizziamo presidente? Analizziamo che Renzi ha conquistato l'apparato perché avere le leve all'interno del PD e determinare il successo l'insuccesso anche delle carriere gli ha portato sicuramente un maggior consenso anch'io sottolineo comunque la flessione notevole sul piano generale della partecipazione degli iscritti credo in gran parte dovuta al fatto che una parte di quegli iscritti sono già transitati sul progetto di D'Alema e Bersani ma risultavano comunque iscritti e aventi capacità elettorale per il resto io voglio sottolineare che Renzi sta modificando a livello proprio di DNA questo partito il PD era un partito che chiunque lo guidasse conquistava un certo tipo di consenso Renzi ha iniettato adrenalina oggi però questa svolta lideristica rischia di mandare in cortocircuito tanti risultati attesi e il risultato delle amministrative scorse vedrete anche le prossime saranno l'occasione per la minoranza interna per tentare di come dire di indebolire la parte renziana secondo me Renzi è stata una grande opportunità lo è ancora è il soggetto sicuramente più forte nel partito più strutturato che è rimasto in Italia però sta diventando esso stesso il limite per quanto attiene al futuro in qualche modo il PD sta diventando come gli altri partiti comincia a essere fallibile sicuramente più debole rispetto alla forte struttura che aveva in passato secondo lei la fallibilità diciamo così di Renzi è nata proprio nelle amministrative che poi si è tramutato in una clamorosa sconfitta la fallibilità è nel partito carismatico nel liderismo che è secondo me incompatibile con gran parte della struttura del partito ha creato un vero e proprio cortocircuito io l'ho vissuto nell'amministrativa retire dove incontravo dirigenti del partito che siccome aveva vinto a un certo punto le primarie sono state un'opportunità dopo i primi tempi le primarie sono diventate l'occasione per uno scontro politico interno e si percepiva perché perché chi vinceva non salvava lo sconfitto io ho 43 anni ma ho vissuto un po' dall'esterno tutte le varie stagioni congressuali e comunque era un partito che il PDS diciamo e anche il PD diciamo della prima era anche se c'era una parte dominante poi c'era una capacità di condividere la gestione di un partito invece l'affermarsi del liderismo del partito di Renzi dentro il PD ha un po' tenuto ai margini una quota rilevante e credibile della classe dirigente e come dire si percepiva nelle varie tornate amministrative la voglia di penalizzare il candidato forte uscente dalle primarie su base locale il dato aretino siccome è stata una sconfitta diciamo che scotta ancora probabilmente per il partito democratico quella di Arezzo per tante ragioni una città simbolo poi assunta anche alle cronache nazionali dimintendo è strano il fatto che si scelga ancora a grandissima maggioranza Renzi all'interno del partito nonostante il renzismo abbia fallito nella corsa al comune aveva la strada quasi spianata dalla precedente amministrazione Fanfani credo che sia anche una scelta di opportunità locale comunque diciamo la struttura è quella al di là della forza di Ceccarelli e della parte più vicina Orlando non credo che si siano scimentati con grande energia in questo tipo di battaglia la battaglia non l'ho vista anche se sono tre le opzioni sul campo non si percepisce dall'esterno il fuoco della battaglia ha avuto anche strada facile spianata l'area renziana poi per il resto da Rezzo c'è stato un renzismo non renzismo perché venivamo da 7 8 anni di governo fanfani per lo più inattivo incapace di governare e il candidato di Renzi non ha fatto il renziano non ha fatto il rottamatore anzi ha cercato di comprendere o di giustificare il governo precedente io glielo consigliavo simpaticamente in campagna elettorale se fai il renziano fai il renziano fino in fondo invece in qualche modo ha dato l'opportunità al centro-destra di rappresentarsi come elemento di rinnovamento poi si inseriva insomma in una dinamica regionale sulla legge sulla sanità ci sono state una serie di concause che hanno portato anche il centro-destra a vincere a Grosseto paradossalmente nel momento più debole per il centro-destra in Italia il centro-destra non ha mai vinto così tanto soprattutto in Toscano non è un'anomalia perché c'è un 5 stelle debole e incapace di rappresentare un'alternativa perché non ha il player che interpreta quel sentimento nazionale che incarna il 5 stelle dall'altro il centro-sinistra con Renzi in campo e i renzisti sul territorio non riescono a coagulare tutte le forze di centro-sinistra c'è quella dicotomia di cui dicevo c'è quel cortocircuito che determina poi la sconfitta e vedrete che potrebbe succedere altrettanto a Lucca potrebbe succedere altrettanto a Pistoia e succederà anche a Siena a Siena dice assolutamente sì se fosse Siena insomma sarebbe molto ricordatevi che il centro-destra nelle precedenti tornate ha perso per poche centinaia di voti a Siena non per migliori no no interessante questa analisi è d'accordo professor Tarchi sul fatto che si è creato il cortocircuito con un leader carismatico in un partito che tradizionalmente insomma non aveva questo tipo di guida sì sono quasi completamente d'accordo a quello che è stato detto aggiungerei soltanto qualche elemento c'è un problema al di là della struttura o della non struttura del partito carismatico c'è un problema specifico di carattere renziano che va tenuto di conto è troppo facile farci una battuta sopra ma il problema di Renzi è cercare di resistere alla bulimia non solo dal punto di vista fisico per cui in grassa ma dal punto di vista proprio della sua volontà di potere cioè c'è questa sua tendenza molto messa in evidenza anche negli ultimi anni anche un po' a schernire gli avversari non solo esterni ma anche interni a cercare un po' di strafare talvolta umiliando anche i soggetti con i quali non sarebbe qualcuno invece farlo e questo per ora comunque non gli ha creato enormi difficoltà finché non c'è stata la controprova soprattutto in parte anche delle amministrative come si diceva soprattutto quello del referendum dove è stato chiaro il limite del trascinamento personale renziano cioè trascina sì ma in questo modo trascina anche tutti quelli che gli sono contro ora il caso del voto di cui parlavamo prima nei circoli è un caso indubbiamente a sé stante perché da una parte c'era comunque da parte dei suoi la volontà di giocare questa carta perché se l'avessero scaricato per esempio altri componenti della sua coalizione interna in questo momento chi avrebbero trovato come alternativa come si sarebbero mossi sarebbe stato diciamo un indebolimento forte di tutto quanto l'ambito partitico però va anche detto che quelli che avrebbero dovuto votare io ci torno un attimo sopra sono persone che hanno rinnovato l'iscrizione cioè c'è stato un tesseramento fino a pochissimo tempo prima del voto quindi in una situazione di questo genere le anime morte di famosa memoria della prima repubblica avrebbero dovuto essere pochissime per cui ripeto la drammaticità di una scessione come quella che c'è stata con molti padri fondatori avrebbe fatto pensare a una grande afflusso e invece è evidente che il dato personalizzante giustamente messo in evidenza è servito anche da limite cioè non ha trascinato come faceva in passato e ha messo in condizione molti di farsi delle notevoli preoccupazioni e quindi rimanersene fuori dal gioco il paradosso che giustamente veniva sottolineato prima è interessante cioè proprio però nei punti di forza interni di Renzi si verificano questo tipo di debolezze in chiave amministrativa dove non entrano in gioco gli iscritti ma soprattutto gli elettori e questo è una situazione di forte debolezza ripresso che tutti gli avversari a livello nazionale le cifre dei sondaggi ci dicono che non c'è la percezione da parte di gran parte dell'elettorale italiano di una efficace alternativa al PD se non in direzione 5 stelle e invece i casi di molte amministrative danno delle sensazioni diverse cioè l'impressione è che ci sia una quota talmente crescente di elettorato che sta alla finestra che potrebbe succedere di tutto di qui a qualche anno non dico di qui a qualche mese cioè questo pubblico si diceva anche prima c'è una tendenza astensionista ormai fortissima ma che tipo di astensionismo è perché ci sono varie componenti all'interno dell'astensionismo l'impressione è che negli ultimi 5-6 anni ci sia creata una specie di bolla dove ci sono non solo persone disinteressate ormai la politica ma molti che pur non potendone più non scorgono nessuna alternativa e se prima o poi questo meccanismo cambiasse cioè nel senso se ci fosse la possibilità di prospettare qualcosa di diverso da quello che abbiamo conosciuto finora naturalmente è ovviamente chiaro i 5 stedi su questo giocano l'ho detto tante volte anche nel momento in cui si era avuta l'ascesa imprevista nel 2013 ha detto sì però il nostro problema è recuperare una gran parte del 40% di gente che non va a votare però di questi non è riuscito a recuperarne che è una parte molto limitata secondo i sondaggi pur piuttosto promettenti che ci sono adesso e quindi è un serbatoio secondo me dove non ci sono soltanto quelli che non andranno mai a votare ci sono altri e in questo momento il carisma renziano non solo non li attira ma dati gli eccessi bulimici di cui dicevo prima li respinge allora tra l'altro diciamo ora la partita si fa interessante sulle primarie aperte perché come avete visto Cuperlo chiede una mano ai fuoriusciti quelli del movimento democratici e progressisti vengano ai gazebo e ci aiutino con il suo voto ora inizia un altro film dice Cuperlo il che si collegherebbe al fatto come si diceva prima lo diceva il presidente Macri che alcuni che avevano una testa del PD e risultavano iscritti poi sono conflitti invece Rossi e Bersani in Toscana il dato prende il segretario uscente Renzi anche si prende la Toscana Orlando però vince a Carrara dove ci sono le amministrative anche qui e l'amministrazione uscente è di centrosinistra benché ovviamente come sapete Zubani sia del partito socialista già sindaco di Firenze va bene a Pistoia Pelato Lucca e Firenze dove oscilla tra il 74 e il 79 ma soffre sulla costa non solo a Massa Carrara ma anche a Pisa e Livorno qui Orlando ha sfiorato il 50% è andato oltre il 40% ha sfondato soprattutto a Livorno ma anche a Pisa è andato molto bene il dato della crisi economica può in qualche modo influire in questo caso perché la zona della regione che soffre di più Massa Carrara Livorno sono zone di area di crisi compressa come si suol dire direttore sì anche se devo dire mi incuriosiva molto le cose del presidente Macri rispetto a Sena perché noi ce lo dimentichiamo sempre ma quello è un enclave determinato da una forte crisi economica che non è certo simile a quella del frutto della deindustrializzazione della provincia di Massa o della grande crisi che ha vissuto la provincia di Livorno ma spesso ci pensiamo o meno ma veramente le vicende del Monte dei Paschi non solo possono poi causare o non da lunga i cui effetti come diceva anche il professore magari non sono valutabili nell'arco di qualche mese ma di qualche anno se c'entra diciamo così la crisi economica con gli andamenti diciamo interni alle alle elezioni diciamo tutte interne del Partito Democratico non lo so io non 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 riesco insomma diciamo così a dargli una lettura così uniforme anche perché ad esempio Livorno è un caso che ce lo siamo detti anche altre volte tutto da studiare nel senso dove il 5 Stelle hanno vinto con uno scarto molto lieve ma è anche una città dove da due anni Lugarin la sua giunta ha compiuto due anni poco fa pochi mesi fa non c'è mi sembra segno di vita nel senso non c'è segno di reazione da parte del Partito Democratico e questo probabilmente è anche un segnale viene dato poi anche viene raccolto dall'andamento ci sono dei casi molto particolari che non sono segnati diciamo dall'aspetto di crisi economica ma politica per esempio immaginavo cosa sarebbe successo a Sesto Fiorentino uno dei primi paesi dove delle prime città dove c'è stata la caduta di un sindaco Renziano poi vai a vedere cosa succede dentro il PD Renzi ha vinto all'80% però ripeto parliamo soltanto degli iscritti al Partito Democratico e probabilmente come diceva il professore non sono tutti quelli che avranno votato però per tornare alla tua domanda riguardo all'aspetto diciamo così del peso della crisi economica che più segnatamente si coglie lungo la costa io credo che le prossime amministrative più che le elezioni all'interno del Partito Democratico e il congresso del Partito Democratico mostreranno qualche effetto obiettivamente se uno guarda proprio la cartina geografica della costa toscana si accorge che una serie di crisi economiche hanno corrisposto veramente a delle crisi politiche che magari ancora non sono giunte a completa maturazione ma che hanno dato dei segni di forte inquietudine Carrara con buona pace insomma di quello che sta succedendo e con buona pace di Orlando e di Zubani eccetera viene considerato un comune a forte rischio dal punto di vista del Partito Democratico dove potrebbero vincere i 5 Stelle la partita di Lucca scendendo verso sud è assolutamente aperta con confronto tra un sindaco che non è Renziano e un candidato che tra l'altro è un collega ma che non è diciamo organicamente di centrodestra ma che è un candidato civico scendendo ancora sotto Pisa dove non si vota ma c'è diciamo un elemento di fermento lo ricordavi tu prima che si coglieva anche al tempo del referendum costituzionale e ancora più a sud Livorno e poi Grosseto che è stato diciamo l'ultimo capoluogo di provincia perso al Partito Democratico nei rinnovi amministrativi quindi sicuramente una sovrapponibilità piena tra crisi economica e crisi politica del Partito Democratico non so se c'è ma sicuramente una certa coincidenza la vedo Qualcosa aggiungere su questa analisi presente prima di voltare le pagine? Queste crisi anche in Toscana sono cicliche sta accadendo un secondo ciclo dopo le vittorie di 10-15 anni fa che già accaddero ad Arezzo a Lucca a Grosseto e il PD non ha rappresentato una valida alternativa e gli elettori diciamo in continua e forte mobilità anche per la crisi economica opteranno e hanno optato per un centrodestra riviste corretto e capace di intercettare candidati con un alto profilo civico così come è successo ad Arezzo così come è successo a Grosseto e così come succederà anche in altre realtà per il resto ecco quello che mi preme di sottolineare anche l'eccesso del circo mediatico ha ragione il professore quando dice che potrebbe accadere qualcosa che rompa gli schemi perché se leggiamo i giornali da mesi anche grazie a questa macchina di grande comunicazione che sono le primarie del PD sono sempre nei giornali PD e 5 Stelle un po' anche la stampa ci gioca sembra che esista solo il PD e il 5 Stelle secondo me poi il centrodestra rivisitato ricompattato è capace di esprimere una premiership adeguata e che guarda un certo tipo di rinnovamento potrebbe essere la vera sorpresa delle prossime politiche il problema è che vi voglio ricordare che non si riesce a votare in questo paese che oggi siamo bloccati aspettando le primarie del PD perché vi ricordo ricordo anche a me stesso che questa legislatura è nata per fare riforme le riforme non sono state fatte sono state bocciate e ancora c'è un governo ora si aspetta l'esito delle primarie per andare forse a votare anzi c'è il PD che si sta dando il tempo di organizzare la ripartenza di un leader indubbiamente questo è il noto centrale di tutto il dibattito che sta attorno alle notizie del giorno allora andiamo in pubblicità e poi torniamo con le altre notizie fra poco passato il centro-destra attenzione eccoci qua allora nuovamente in onda con la prima pagina del Corriere Imprese della Toscana che ci riporta l'attenzione quella che è stata insomma un po' la preoccupazione che ha scosso il fine delle nostre segna stampa della settimana scorsa Donald Trump soprattutto la Biaggio per il punto di vista toscano il Corriere Fiorentino invece ci mette in luce altri aspetti da otto anni una raffica di tazzi con la Toscana ovviamente in primo piano Trump è solo l'ultima goccia e ovviamente come sapete insomma in Toscana l'export è particolarmente importante la Francia la Germania il Regno Unito la Russia i principali partner commerciali della Toscana extra o è invece sono gli Stati Uniti la Cina il Giappone il Brasile l'India l'Arabia Saudita insomma non è il primo dato le esportazioni toscane per settore vanno con in primis i macchinari che valgono 1,2 miliardi i metalli il tessile soprattutto l'abbigliamento anche qui 1,2 miliardi la pelle e il conciario 763 milioni e via via gli altri cibi e bevande 530 milioni le calzature anche sul mezzo miliardo di euro le imbarcazioni e la chimica sono i principali settori l'articolo in questo caso è firmato da Silvia ogni bene dunque Donald Trump che spaventa diciamo così con i suoi dazzi ma non è secondo il Corriere Fidentino ovviamente il primo a farlo insomma stiamo ingigantendo il problema secondo lei direttore o cosa? non so se è ingigantito però un dato c'è stato sicuramente credo che Wall Street Journal abbia fatto uno scherzo un pesce d'aprile con un giorno d'anticipo nel senso che gli elementi che riportava riguardo all'intenzione di Trump di imporre dei dazzi su merci europei eccetera era una cosa che già era emersa addirittura nel mese di gennaio e nel mese di febbraio in maniera molto consistente il fatto che Wall Street Journal abbia riproposto questa cosa e abbia fatto rimbalzare la notizia in Europa segnatamente devo dire in Italia perché negli altri paesi europei non c'è stato un grande allarme come quello che si è registrato nelle 48 ore successive alla pubblicazione dell'articolo del giornale statunitense come invece c'è stato in Italia per esempio sulla Piaggio e anche sulla San Pellegrino benché non sia a dispetto del nome un prodotto del tutto italiano o comunque degli italiani ho la sensazione appunto che ci sia stato tu parlavi prima di riemersione a proposito di un altro episodio ecco ci sia stata una riemersione che ha riacceso il riflettore su un dato che era comunque già ormai abbastanza assodato e che oggi il Corriere Fiorentino vedo che con tanto di elementi di dati e di date ci fa ci fa vedere come si sia svolto negli ultimi mesi 40% del commercio mondiale ovviamente ha rapporti da questo punto di vista secondo il Corriere Fiorentino interessanti insomma questa serie di infografiche sappiamo ovviamente che il professor Tarchi è uno dei massimi esperti di quello che oggi viene un po' abusato come termine in politica il populismo ma Trump è populista professore secondo lei? Sì lo è dal punto di vista diciamo dell'impostazione che ha dato al suo ingresso in politica e alla sua campagna prima per le primarie e poi anche per la presidenza sicuramente gli argomenti che ha utilizzato il modo in cui li ha utilizzati portano in quella direzione questo non deve far dimenticare che il populismo è io lo insisto su questo punto l'ho scritto e detto molte volte è una mentalità non è un'ideologia non è soltanto uno stile ma è una mentalità un modo di vedere le cose e quindi si adatta poi ai soggetti che ne sono veicolo sia che siano soggetti individuali quindi dei leader o comunque degli esponenti o che siano anche dei movimenti politici in questo caso poi la questione della singolarità del caso populista di Trump è ulteriormente accentuata dal fatto che si tratta del populismo di una persona perché il partito repubblicano non ha assolutamente recepito il discorso trumpiano quando dico una persona intendo dire chiaramente anche poi tutto il suo entourage sappiamo cosa si è detto di Ben non sappiamo tutto quello che si è raccontato sulla campagna in particolare attraverso i social media internet di un gruppo di persone che lo hanno sostenuto ma non c'è una struttura partitica ancorché poi i partiti statunitensi siano estremamente deboli dietro di lui quindi è evidente che rientrano elementi umorali negli atteggiamenti di Trump rientrano questioni di personalità abbiamo detto prima di Renzi ma questo è un altro caso assolutamente significativo quello che è importante sottolineare secondo me nel populismo di Trump rispetto all'argomento del cui stiamo ora parlando è il fatto che i populisti si chiamano così perché guardano o almeno dicono di guardare sempre soprattutto all'interesse del proprio popolo ecco perché per esempio benché se ne parli tanto una internazionale dei populismi è qualcosa di estremamente improbabile nella realtà effettiva ci possono essere interscambi sostegni reciproci ma non ci sarà mai un rapporto forte che metta insieme tutti costoro e quindi Trump fa quello che ritiene opportuno o che coloro che gli stanno intorno ritengono opportuno per difendere le ragioni come le vede lui del proprio popolo quindi le politiche protezioniste in questo caso non possono stupire minimamente vero però è anche che il protezionismo gli Stati Uniti si diceva poco fa lo hanno sempre fatto ci sono state epoche in cui presidenti di tutt'altro segno come lo stesso Clinton Bill Clinton hanno utilizzato lo strumento per dare quando lo ritenevano opportuno diciamo delle bastonate metaforiche agli europei da questo punto di vista e quando c'è stata la discussione sul trattato transatlantico ora da Trump messo da parte molti hanno fatto notare proprio questo dato cioè che dietro le alleanze politico-militari c'era in realtà un conflitto molto forte da decenni tra le due sponde dell'Atlantico tutto questo Trump lo mette in evidenza maggiore anche perché mediaticamente si vuole sottolineare questo suo egoismo nazionale però c'è dietro una questione strutturale di rapporti fra due entità l'Europa e gli Stati Uniti che al di là delle loro simpatie più o meno forti reciproche politiche e militari hanno un grosso problema di coesistenza sui mercati mondiali Presidente Macri ovviamente il suo settore forse mi correga se sbaglio non è interessato ovviamente da esportazioni immagino insomma l'energia voi siete fornitori sul territorio ma all'indomani ahimè è caratterizzato principalmente dalle importazioni infatti è il contrario però all'indomani delle elezioni di Trump noi eravamo qui lo ricordo bene a commentare insomma quello che poteva essere lei è sorpreso al fatto che insomma di solito siamo abituati che si promette tanto ma alla fine poi si riesce a realizzare poco per una serie di motivi tanto tutto il mondo annunciava disastri sul piano economico la finanza era in subbuglio io vengo un mese fa circa abbiamo iniziato una sorta di beauty contest per selezionare il global coordinator l'advisor per procedere con la quotazione in borsa di Estra ho avuto l'occasione in due giorni a Milano di parlare con i dirigenti più importanti delle più grandi di banche italiane ed europee perché dovevamo appunto confrontarsi con loro e scegliere la banca che ci dovrà accompagnare o le banche che ci dovranno accompagnare appunto in questa avventura della quotazione e loro paradossalmente contrariamente a tutta l'intelligenza finanziaria ci spiegavano come Trump o comunque l'effetto Trump questa presidenza stava producendo dei risultati notevolmente positivi sugli aspetti finanziari e proprio per quanto riguardava anche la nostra quotazione che sarà un titolo tra virgolette difensivo che in questa fase ciclica economica è appetibile e auspicabile come titolo in questa fase di crisi ci chiedevano fate presto a quotarvi perché da qui a breve sulla spinta americana anche i meccanismi di borsa la valutazione di certi titoli rispetto ad altri che fino ad oggi ancora sono diciamo in debolezza potrebbero cambiare quindi per dire che ha dato anche un impulso notevolmente positivo al di là di quello che ci viene tradotto continuamente con i media in realtà la realtà è un pochino diversa quindi l'effetto Trump è stato notevolmente positivo per l'economia americana e è positivo in generale per la finanza globale per il resto i populismi per me sono diciamo sono sono delle personalità politiche che hanno compreso che è il momento di tornare in sintonia con la popolazione da troppi anni si è creata una divaricazione incredibile tra un'elite politico finanziaria ahimè sempre più finanziaria sempre meno politica perché si dice da decenni che l'economia ha preso il sopravvento sulla politica rispetto ai primi del novecento oggi questa distanza c'è un tentativo di colmare questa distanza con esponenti politici che cercano una nuova sintonia con la popolazione con i cittadini con alcuni eccessi con alcune derive verbali per carità però è un fatto secondo me positivo il tentativo di ricreare una sintonia e di non perdere ampie fette di elettorato e ha ragione il professore che non sono cumulabili questi diversi populismi ma ognuno ha la sua specificità proprio perché hanno una radice locale nazionale territoriale di quel paese dove nascono visto che stiamo a parlare di economia c'è una questione che vorrei riprendere di un vostro comunicato rispetto al bonus energia perché è un vero e proprio diciamo così problema perché sappiamo le difficoltà economiche le leggevamo anche prima della popolazione italiana della popolazione toscana ma non molti sanno che esiste questa opportunità se non erro io come presidente di Estra sto portando avanti un modello di azienda che rammenti di essere di origine pubblica e quindi di svolgere un ruolo sociale importante siccome ci stiamo avviando sempre di più verso il libero mercato ci sarà battaglia ci sarà sempre più aggressività commerciale a prezzi più o meno invariati perché non tutti sanno che ancora oggi nonostante il libero mercato che dovrebbe da qui a breve arrivare ancora il 70% è a maggior tutela sul gas sull'energia elettrica c'è stata la liberalizzazione diciamo a livello di competitor però in gran parte le tariffe sono stabilite dall'autorità per l'energia e le tariffe stabilite nei giorni scorsi hanno previsto un aumento del 2,7% sull'energia elettrica e una flessione sul gas le motivazioni sono diverse attengono all'approvvigionamento all'eccessivo freddo ma non stiamo lì a discutere io ho fatto un intervento pubblico anche anomalo se vogliamo perché non si è mai visto un presidente di una società che si occupa di energia commentare le tariffe ma l'ho voluto dare proprio per dare un segnale e ricordare ai cittadini che al pari dei carburanti della benzina noi subiamo una tassazione incredibile 35-45% che varia 35-45% sulla nostra bolletta siccome oggi a differenza di un decennio fa la bolletta dell'energia elettrica del metano sta incidendo pesantemente nel bilancio delle famiglie e delle imprese non è più un dettaglio noi registriamo le difficoltà delle famiglie e quindi mi sono permesso di ricordare come è composta una bolletta quali sono i costi fissi ricordare che non c'è solo una tassa nazionale c'è un'imposta regionale e addirittura incredibilmente anche qui magari qualcuno ce lo dovrebbe spiegare c'è l'IVA sulle tasse noi si paga l'IVA da 10 al 22 sull'addizionario regionale e sull'imposta nazionale fa schizzare questa quota in positiva a questa si aggiunga che in positivo che per venire incontro alle famiglie a basso reddito il ministero sviluppo economico già da anni ha concepito il bonus energia per elettricità e il gas sono interessati 2 milioni di italiani ma non lo conoscono questo bonus è utilizzato solo dal 27% degli aventi diritto nell'energia elettrica e dal 34% nel gas e pensate il 30% di chi lo utilizza non lo rinnova questo dovrebbero comunicarlo i comuni perché sono i comuni che attivano questo bonus e è attivabile da redditi a partire da 8 mila fino a 20 mila nelle famiglie con 4 figli a carico e che ha interesse nel pubblicizzarlo no è solo credo disattenzione perché non abbiamo interesse noi come compagnie perché non ci rimettiamo nemmeno dei soldi perché questo bonus è finanziato dall'autorità in tariffa quindi ecco Estra si farà parte dirigente per avviare almeno nei nostri territori di pertinezza ormai siamo un'azienda nazionale ma siamo principalmente collocati nel centro Italia nelle Marche Abruzzo Molise Umbria però ci faremo parte dirigente per promuovere questo bonus che ripeto è utilizzabile da almeno 2 milioni di italiani ma non è richiesto sufficiente dai comuni che non lo promuovono a sufficienza prendete nota chi è all'ascolta interessato ovviamente si può informare sui canali i più disparati ovviamente soprattutto magari andando sul sito di Estra allora abbiamo parlato di Trump vorrei farvi vedere anche quello che è stata la giornata ancora una volta degli eredi al trono d'Inghilterra in Toscana shopping e visita privata agli uffizi Camilla Show Firenze bellissima bagno di folla per la duchessa di Conovaglia stasera cena di gara a Palazzo Vecchio Professor Tarchi di solito quando parliamo delle monarchie tendiamo a pensare che sia una cosa diciamo collegabile al glamour e basta e anche demodè però poi andiamo a vedere l'indice di gradimento ad esempio che la Gran Bretagna non tutto ovviamente magari dopo parleremo della Scozia dell'Irlanda del Nord e della spinta centrifughe verso l'Europa alla luce della Brexit ma diciamo l'indice di gradimento dei reali d'Inghilterra è molto alto quindi insomma siamo noi che leggiamo la cosa diversamente no non è tra l'altro l'unico caso quello della famiglia reale britannica di famiglie monarchiche o comunque di istituzioni monarchiche che riscuotono un gradimento piuttosto notevole però va detto che in generale questa istituzione si salva su un piano che non è quello della valutazione politica propria che si dovrebbe dare di un sistema politico quindi appunto di una forma come quella monarchica è una valutazione che se non è proprio legata al glamour è comunque direi legata a una questione di prestigio anche nazionale che c'è in qualunque tipo di contesto quindi sono figure che sono viste come rappresentative ma totalmente estrane alla logica dei contrasti dei conflitti partitici anche questo le contribuisce a farle valutare noi sappiamo da indicatori statistici di sondaggio per esempio come l'Eurobarometro che un po' in tutti i paesi europei c'è un calo molto forte di considerazione da parte del pubblico dei soggetti tipici della politica i partiti sono praticamente dappertutto all'ultimo gradino della scala e chi c'è ai vertici o i presidenti della repubblica o i monarchi e poi naturalmente i carabinieri o i loro equivalenti per l'Italia i carabinieri e altre forze dell'ordine questo significa che il pubblico in genere li vede ancora un po' come super parte se questo va al loro vantaggio e il fatto che si impegnino come stanno facendo ora Carlo e Camilla in attività esterne in cui si mostrano più che altro filantropici quindi vanno a vedere le macerie del terremoto e magari promettono qualche aiuto si occupano di questioni di volontariato di sostegno in particolari settori bisognosi e così via questo lì da loro un certo un certo margine ancora di considerazione persino laddove sono invece come dire contestati quando si riferisce a un ambito di tutela dello Stato nazionale citava la Scozia citava l'Irlanda ma possiamo dire per esempio la stessa cosa per la Spagna e il problema di tutti gli autonomismi locali ecco laddove c'è un po' di commistione cala improvvisamente questo genere di considerazione quindi finché rimangono superparte se si occupano di cose non direttamente politiche soprattutto di tipo filantropico allora si stanno veramente ai vertici c'è da dire che in un certo senso anche i media stanno rialimentando tutto questo perché un tempo erano soltanto i cosiddetti rotocalchi per signore che si occupavano delle vicende delle famiglie reali dei nipoti che si sposano cose di questo genere ora basta guardare qualsiasi sito di un quotidiano non solo italiano e nella famosa colonna di destra che riporta i fatti generici e vari stanno sempre nei primi posti assolutamente Brexit e indipendentismo scozzese nord-irlandese eccetera non li tange nonostante siano i rappresentanti di quell'unione del regno unito forse anche quello che li salva dal giudizio contrario del popolo secondo lei che la famiglia reale non sia stata particolarmente felice o almeno non tutta la famiglia reale rispetto all'esito del referendum non è un segreto però c'è anche un dato che mi ha abbastanza colpito in questa agenda fittissima di impegni che Carlo e Camilla hanno avuto sia in Toscana ma anche in altre zone d'Italia Vicenza Napoli anche se semplicemente diciamo per un omaggio ai caduti britannici a Vicenza e per vedere i riscavi di Ercolano nel caso insomma della presenza a Napoli però ci sono un paio di appuntamenti che mi hanno abbastanza colpito uno è quello che si tiene oggi organizzato a Woolmark cioè praticamente chi si occupa delle lane dei filati di questo genere e l'altro è stato quello di sabato sera dove praticamente la coppia reale ha propriziato un incontro tra importatori di carne inglese e viticoltori toscani e questo può essere quello di Villa San Michele esatto può essere interessante perché poi non credo che abbia dato dei risultati immediati però mi ha fatto pensare perché proprio in ragione diciamo così degli effetti economici soprattutto della Brexit il fatto che si occupino comunque anche loro di un legame o comunque di tentare di tenere in piedi dei rapporti che possano diciamo così legare l'Italia e il Regno Unito forse li fa anche uscire da quel ruolo che poi è preponderante che è quello che diceva prima il professore diciamo di soprattutto destinato alla filantropia alla promessa ieri c'è stato un momento anche molto significativo della presenza a Matrice che insomma si è tradotto in una promessa non si è capito bene di che cosa ma insomma di un interesse anche da parte da parte di Carlo allora in questa foto lo vedete tra l'altro nella visita agli uffizi di Camilla incantata alla venere Botticelli in questo caso davanti al Piero della Francesca dei Duchi di Montefeltro allora buongiorno Eva Desiderio Eva ben trovata ben trovati a tutti allora che Camilla hai visto visto ieri insomma la sua passeggiata in centro non è passata inosservata ma io ho visto una quasi settantenne informissima e l'ho scritto anche al loro arrivo il primo giorno su quotidiano Portonetto parlato di eleganza impeccabile e quindi questo come dire conforta tutte le anta perché lei è meglio adesso di quando era più giovane di quando era sotto il tiro degli scandali è una donna d'età che si veste bene per la sua età non ostenta gioielli non ostenta niente e a un tratto mi sembra anche molto semplice e persino confidenziale quindi se una palma va data va data senz'altro a lei lui è perfetto avete visto col caschetto anche ad amatrice col caschetto giallo anche in fortuni però aveva non aveva il doppio petto aveva la giacca e l'abito monopetto quindi si era spinto verso uno stile a modo suo più sportivo però senza dubbio è un esempio di eleganza perfetta e anche questo fa bene fa bene al mondo fa bene alla gente perché c'è un modo di fare un po' sconsiderato in giro e la moda ne è molto come dire coinvolta quindi hanno dato anche un'immagine di stile e di coppia unita perché quei sorrisi quegli sguardi stupiti davanti al ponte vecchio erano sinceri quindi a me sono tutto sommato anche proprio come persona semplice persona e non come giornalista sono molto piaciuti ho trovato un po' troppo ostentata la bicchierata di sabato sera a Villa San Michele avrei preferito che fossero andati in visita a una grande cantina tipo quella degli antinori che è veramente un esempio anche di una modalità di costruzione architettonica che rispetta la natura perché è tutta sotterranea non c'è niente di invasivo sul panorama ecco invece che fare questo incontro così tra i soliti vecchi amici i soliti grandi nomi e poi molto sconveniente tutta la visita di Camilla a Napoli da Marinella con l'appiegazione delle tre cavate il regalo il fulare a lei ecco volevo dire ho trovato molto commerciale questa cosa allora Firenze cosa doveva fare doveva stare 15 giorni se voleva visitare le grandi boutiche grandi laboratori a Napoli sarebbe stato meglio che fosse andata al settificio di San Leuscio vicino alla regia di Caserta come a Firenze mi meraviglio che non abbiano prospettato oltre agli ufizi oltre all'opificio anche una bella visita al settificio fiorentino che data dal 1700 piuttosto che presso i laboratori dei grandi della scagliola o dell'altissimo artigianato che ancora sopravvive in città ecco questo non sarebbe stato male grazie per questa analisi perché oggi faranno anche un bel giro ancora non vanno al settificio come tu hai detto vanno all'opificio invece Sant'Ambrogio hai capito tutto bello anche quella cosa di Sant'Ambrogio come l'ha dichiarata in Marinella ecco io sarei andata in dei luoghi più rappresentativi della città e del grande talento culturale anche delle mani di questa città le mani d'oro di Firenze sa quanto diciamo di responsabilità Eva c'ha il cerimoniale in questo perché poi verrà anche un po' guidato ma certo ma certo ma oramai questa è una città un po' come dire parco giochi quindi capito magari non lo sanno nemmeno che c'è l'antico edificio alcuni capito questo bisognerebbe invece fatelo capire quello è un esempio su tanti c'è l'officina di Santa Maria Novella che ancora garantisce un'eccellenza di prodotti insomma ci sono vari luoghi della città che forse gli potevano essere svelati a questi magnifici settantenni domani torneremo magari a commentarlo Eva visto che oggi sono a Palazzo Vecchio anche grazie a te ah sì certo saluti a tutti un saluto ad Eva Desiderio allora devo salutare il professor Tarchi che ci lascia e lo ringrazio noi ci concediamo ancora qualche frivolezza con lo sport prima di chiudere andiamo a vedere la rassegna stampa sportiva il Corriere Fiorentino come vedete parla di testata per l'Europa ed è Babacar il protagonista di giornata un altro 1-0 ma tanto vale per prendere tre punti infatti Babacar batte 1-0 la noia dice il QS terza vittoria di fila della Fiorentina Bologna battuto di misura Sosa nuove frecciate tra l'isponso della Fiorentina c'è anche extra presidente Macri assolutamente sì la Fiorentina contribuiamo soprattutto sullo stadio e sosteniamo la Fiorentina a calcio insomma il fatto che vinca immagino che ci fa sicuramente piacere io ho un'altra passione però sosteniamo la Fiorentina perché la squadra la svegliamo o no la passione è proprio praticamente avversa ok bene allora ci fermiamo qui molti hanno già capito però va bene va bene così ovviamente teniamo la più importante squadra della Toscana diciamo può puntare all'Europa secondo lei direttore la Fiorentina o no? il titolo di oggi mi sembra il Corriere Fiorentino sulla testata è molto significativo nel senso che veramente forse si tratta di una voglia irrefrenabile insomma ecco il tentativo di farcela a tutti i costi vedremo insomma certo una serie di risultati soprattutto nella fase precedente insomma la partita di ieri eccetera non è che lasciassero particolarmente tranquilli il gioco manca il risultato c'è chissà che non porti bene allora grazie per aver passato questo tempo con la nostra la stessa stampa siamo a noi all'Anaisi dei fatti del giorno grazie a Francesco Macri buon lavoro per quanto riguarda Estra grazie al direttore dell'Anza Toscana Stefano Fabri e grazie a voi per averci seguito ci troviamo puntuali domani a stessa ora arrivederci